e gira gira e non si capisce se va gira 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 da che mi scuoccia la pasta come va come va sta andando se ci siete battete un colpo che non capisco allora giambattista messa che c'è ma ovviamente non vedo il commento perché oggi ha intenzione di farci girare le scatole amiche amore cosa vogliamo fare vieni eccoci bravo vieni allora spero vivamente che si riprenda tutto perché altrimenti siamo al buio perché non si vedono i commenti dei nostri amici come mai questa cosa qui così negativa stasera esattamente no facebook per piacere come si rientra i nostri amici sono già lì ma è meglio che mettiamo un attimo a posto se no ecco però con gira di entrare se no si vede nessuno se no mi scuoccia la pasta che stasera abbiamo una matricione no ecco sta arrivando sta arrivando sta arrivando sta arrivando vedi bisogna aver pazienza quindi adesso vedrai che piano piano iniziamo a vedere i nostri amici nel frattempo ti lascio qui e vado a colare la pasta teoricamente tra un po dovrebbe iniziarsi a vedere qualcosa qui sotto da queste parti vediamo un po scriviamo noi scriviamo ci siete punto di domanda che non lo trovo vediamo ho scritto il mio si vede bene teoricamente dovremmo vedere anche gli altri questo fai attenzione che vado a colare la pasta questo è il che se mi scuociono le mezze maniche questo è il quesito allora quesito oh ma porca paletta ma non si vede niente e adesso fammi colarla qua ma perché oggi abbiamo internet che ciocca ma ti ho detto esci il momento e rientra così via e allora vieni a fare tu qui si dai allora metto un po' la pasta qui e poi la metto lì e poi la metto lì e poi la metto lì arriviamo eh ragazzi ci sono anche te che c'è da aggiungere il formaggio da girare allora uh eccovi si vedono allora ale arrivo micchi arrivo arrivo tieni amore rispondiamo ale eh siamo buonasera siamo siamo in diretta a Facebook eh ma fai venire Filippo dai così lo salutiamo e noi mangiamo adesso dai ciao 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 allora ragazzi ce l'abbiamo fatta la sta sta condendo la condendo condisce la pasta il signor Giacobbe condisce sta condiscendo io mi faccio servire però l'ho fatta io cari ho fatto una pastina alla matriciana che guarda sicuramente piccante e sicuro ah ovviamente senza offesa cioè gli abitanti di Amatrice per come io posso aver fatto questa pasta alla matriciana ma è molto buona è molto buona allora Daniel è già arrivato ciao Daniel bacio Loli ciao Loli Fabrizio Giovanna Anna Pilar umberetta allora Gianfranco ciao mitico Gianfranco eccolo Gian Battista direttamente da Amatrice fantastico fantastico siamo contenti di averti con noi stiamo tentando di riprodurre quello che ci avete fatto mangiare quella notte meravigliosa di Capodanno che era una roba pazzesca non ci riusciremo mai però dai mangiabile amore piatti devi prendere mangiabile mangiabile fai i piatti lì così facciamo prima dove sono dove sono capite che mi chiede dove sono i piatti cosa 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 vuol dire cioè quando un uomo ti dice dove sono i piatti perché li nascondo ah li nascondo non è che per caso tu metti le mani poco in cucina o li nascondi ciao Amat Giovanni ehi Carmen ciao buona no c'è Sandro e Marina por fin salire all'ospedale e vai meno male mi raccomando ai riguardati siamo felicissimi che tu sia a casa oh eccola 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 una matricianina mamma mia allora ovvio il profumo mi riporta a capodanno eh però ahimè la era un po' più buona era un po' più buona Maria ciao ciao Mario oh stasera mi ha servito il Giacobbe ciao Filippo ombretta Walter e Terry ciao ragazzi baci 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 stasera non so intenzioni strane è arrivato su con 20.000 accordi io amore ti sei fatto un piattino di pasta no io vi vorrei far vedere ma ve lo faccio vedere ma ve lo faccio vedere perché toccategli tutto ma non il mangiare questo è il piattino del Giacobbe lo vedete questo è il mio cioè guardate capito mi hai dato 4 chicchi di pasta ciao a tutti ciao hai detto che sei grassa che vuoi dire senti che sei grassa tu hai detto tu hai detto guarda te ne posso dare no ne voglio no mi mangio no mi mangio il mio mi mangio ma guarda che roba oh cioè non gli toccate il mangiare ma voi anche voi matriciate oppure matriciate sì matriciate o avete c'era Gian Battista eh l'ho visto l'ho intravisto l'ho intravisto buon appetito a tutti eh buon appetito vabbè non è come quella là ma è molto buona è buona è vero è fatta bene è vero l'ho fatta io ah ok scusa eh ma tu l'hai messa nei piatti beh ma è importante metterlo nei piatti eh scherzi cambia il sapore ah allora aspetta perché se non tolgo questi non vedo cosa scrivono ah ciao Giulia ah no ciao Giulia non c'è non credo è Giulia Giulia no no ma non c'è aveva commentato un'altra cosa risella allora ragazzi noi lo sapete che cominciamo le nostre dirette sempre mangiando insieme a voi ci facciamo il sabato sera il sabato sera chi non si fa il sabato sera è in compagnia è un ladro no o è un ladro o è o è l'ipote di sia Gian Battista hai rispuntato lo vedi ciao Gian Battista lo rivedremo in un momento ma torniamo a trovarvi eh ragazzi siamo stati vai Sandro non è come la vostra però sono stata è buona passabile no siamo stati a Capodanno è stato meraviglioso un'esperienza fantastica ma spieghiamo perché spiega tu dai stasera abbiamo voluto fare la matriciana perché ci è venuto in mente avremmo dovuto fare a chiavari di pallone di calcio per invitare qua i nostri amici di Amatrice che abbiamo conosciuto a Capodanno quando siamo andati ad Amatrice per il veglione dell'ultimo dell'anno